Nel corso dei loro spostamenti sino all'area di Aleppo sarebbero state sempre accompagnate e scortate da elementi siriani, con i quali avevano precedentemente stabilito contatti diretti. Sottolineo che le due connazionali non hanno purtroppo mai informato le autorità italiane della loro intenzione di raggiungere la Siria né del loro avvenuto ingresso nel Paese. Le connazionali sono state rapite nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto 2014, mentre si trovavano ad Azimo, piccolo villaggio nei pressi di Aleppo, nell'abitazione di un loro conoscente del luogo. Il sequestro è stato effettuato da un nutrito gruppo di uomini armati che ha fatto irruzione all'interno dell'abitazione prelevando Greta e Vanessa e facendo perdere immediatamente le loro tracce.